Benvenuti qui su Digital Stornator, oggi affrontiamo ancora l'argomento Paypal, parliamo ancora del video che è uscito qualche mese fa, come funziona Paypal, sta diventando il secondo video più visto del canale, tuttavia fioccano le domande. Rispondiamo a una domanda specifica, come si ricarica un conto Paypal? È ovviamente inclusa questa spiegazione nel famoso corso da 30 minuti, di cui adesso qui vedete comparire il sommario, perché sono tanti argomenti che abbiamo trattato, ma questo vogliamo isolarlo, come si ricarica un conto Paypal? Andiamo al computer e vediamo questo video tutorial specifico, ma prima ovviamente come al solito, la sigla! Bene amici di Digital Stornetwork, oggi parliamo ancora di Paypal, questo è il video che due mesi fa ho caricato e che sta diventando il secondo video più visto del canale, un video che era sostanzialmente un corso di 30 minuti con un minutaggio che spiegava tutta una serie di domande su Paypal. Ve lo faccio vedere, un attimo che blocco il video. Al minuto 10.48 e 9.55 facevo vedere come si ricarica il conto con un bonifico bancario. Tuttavia ho ricevuto diverse domande, forse questo aspetto non è molto chiaro, così adesso andiamo a isolarlo, facciamo un video solo per questo, vi faccio vedere esattamente come si ricarica un conto Paypal. Sono sul mio conto Paypal, la cosa importantissima da dire è questa, se non vendete dovete ricaricarlo, se volete usare questo conto per pagare. Come si fa? C'è un solo modo, bonifico bancario. Quindi siccome io non ho voglia di andare fino a Piacenza per fare un bonifico, perché dista 7 km la mia banca, quindi di conseguenza cosa faccio? Lo faccio online, ma prima la domanda è, sì, vabbè, ma qual è l'Iban? Qual è l'Iban? Dove lo trovo l'Iban da inserire quando faccio il bonifico? Qui andate in effettua e ricevi pagamento, andate in conti bancarie e carte, dopo che siete entrati qui andate in ricarica conto, ok? Vedete? Conto bancario manualmente, avanti, questo qui è l'Iban del vostro conto Paypal. Cioè, quando andate in banca dovete dare questi dati. Ovviamente io li ho inseriti anche nella home banking, cioè nella parte del mio conto online della mia banca. Adesso vi faccio vedere come faccio un bonifico bancario online, per non dover andare fino a Piacenza, e ricarico il mio conto. Vedete? Io mi sono salvato Europe Paypal, nuovo bonifico, lo faccio uscire dal conto 8040 e ricarico di 100 euro. 100,00 Ok? Ricarica il conto Paypal. Continua. A volte dico Paypal, a volte dico Paypal. Non fateci caso. Le commissioni che la banca mi applica sono di 2 euro. L'operazione è stata presa in carico. Vedete? 100 euro. Ricarica il conto Paypal. Ovviamente questo posso scaricarmelo come riepilogo. Benissimo. Aspettiamo un po' e vediamo cosa succede. Ecco qui. Buone notizie. Trasferimento dal conto bancario completato. Qui sono le 11.25 del venerdì 10 luglio. Ok? Quindi andiamo a fare un riassunto. Avevamo eseguito il bonifico come vedete qui il 9 luglio alle ore 01.02 E il trasferimento è stato completato il 10 luglio alle 11.25. Quindi sostanzialmente circa 36 ore. Ok? Molto bene. Bene. Come potete vedere il trasferimento è completato. Sono arrivati i 100 euro. Ok? Quindi 100 euro ho trasferito e 100 euro sono arrivati. Non è che Paypal sia trattenuta qualche tipo di spesa. 100 euro sono stati bonificati. 2 euro io li ho pagati alla banca. Ma 100 euro sono effettivamente arrivati. Quindi quando qualcuno dice ma Paypal alla fine trasferimenti chissà cosa si trattiene. Come vedete non si è trattenuta assolutamente nulla. Ok? Bene. Con questo il video tutorial è completato. Abbiamo visto quindi come si ricarica un conto Paypal attraverso un bonifico. E abbiamo visto che dall'istante in cui il bonifico è stato effettivamente eseguito dalla banca. Non caricato da me ma eseguito sono passate circa 36 ore. Quindi questo cosa ci insegna? Ci insegna che nei momenti in cui vorrete fare degli acquisti e avendo il conto Paypal scarico andrete a ricaricarlo con un bonifico. Dovete programmarvi prima perché dovete sapere appunto che passeranno dalle 36 alle 48 ore prima di avere effettivamente i soldi sul conto Paypal. E con questo è tutto. Vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Grazie. Grazie.